Bentornati cari sognatori, io sono Max Noreg e questa è la quarta puntata della serie Sonni Coscienti. Dopo che saremo riusciti a memorizzare i nostri sogni e a prendere dimestichezza con essi, ci accorgeremo che in alcuni di essi ci accorgiamo del fatto che stiamo sognando. Di solito questo accade perché notiamo qualcosa di strano e allora ci chiediamo, ma sto sognando? Cosa possiamo fare per farci spesso questa domanda durante i nostri sogni? Ebbene, nei nostri sogni noi compiamo delle azioni e alcune di esse sono azioni che compiamo di solito anche nella realtà. Allo stesso modo, se abbiamo dei pensieri ricorrenti durante le nostre giornate da svegli, possiamo aspettarci che alcuni di questi pensieri ci verranno in mente anche durante i nostri sogni. Quindi il primo trucco che viene in mente è chiedersi più volte durante la nostra giornata se stiamo sognando. È importantissimo non dare mai per scontata la risposta negativa. Supponiamo ad esempio di stare sognando tante belle ragazze e dà la situazione evidente che siamo dentro un sogno, ma non ce ne accorgiamo perché non ci poniamo nessuna domanda. Sfruttando i nostri desideri come fossero un'energia mentale, potremo imparare a farci questa domanda molto spesso da svegli. Ad esempio, quando vedete un gruppo di belle ragazze, soffermatevi su una di loro. Pensate dettagliatamente e senza alcuna censura cosa vorreste farle. Poi chiedetevi, sto sognando e fate un test di realtà. Se la risposta è negativa, pensate, peccato. La prossima volta che sogno una situazione del genere, devo ricordarmi di chiedermi se sto sognando. Ad esempio, possiamo imparare a porci questa domanda in situazioni frequenti, sia nella vita reale che nel mondo onirico. Come aprire una porta, usare il cellulare, prendere un bicchiere. Altro classico test è quello di guardarsi le mani. Vi riporto a questo caso un sogno recente che ho fatto. Parlo con l'Anna Disa del prossimo video che voglio fare. Siamo vicino alla porta di camera mia, dentro all'armadio. Le dico della battuta sul guardarsi il pene nel sogno. Poi le spiego che molti si guardano le mani. Guardo le mie e ho tre dita. Mi metto a ridere e le dico, guarda, sto proprio sognando. Infatti domani alle nove lo scrivo sul diario. Mentre dico così, mi sto già svegliando. In questo caso la lucidità era molto bassa. Difatti mi sono svegliato quasi subito. Vedremo nei prossimi video come cercare di mantenere questa lucidità e aumentarla. E vedremo anche come passare da un sogno a un altro. Anche se questo ci può mettere in situazioni particolari. Curiosità onirica. Se avete delle cuffie mentre dormite, sentirete l'audio nel vostro sogno. E questo audio nel sogno non è possibile disattivarlo in nessun modo. Se parlate con qualcuno nel sogno e nella realtà state ascoltando il giornale radio, sentirete il vostro interlocutore dire quelle cose. E magari vi chiederete, ma perché continui a ripetermi le notizie del giorno? Alla prossima e sogni d'oro! Tra i tanti sogni che fate, potrà capitare che ne notiate alcuni particolari in cui succedono delle cose strane. E mentre sognate, vi accorgete che stanno succedendo cose strane. Sì, sto sognando!